L'esperienza del concorso di Miss Trans si chiude con la consapevolezza che l'iniziativa ha contribuito nel tempo a un cambiamento sostanziale nel modo di pensare. La storia del concorso che nasce nel 1992, quando era davvero difficile sentir parlare di identità di genere o di altri termini, oggi comunemente sdoganati, è quella di una battaglia culturale iniziata quando Giovanna Fanelli, vincendo diverse selezioni, riuscì ad arrivare alla finale di Miss Italia a Salzo Maggiore, dove però venne squalificata perché transessuale. Fu questa squalifica che creò i presupposti per un concorso diventato poi nazionale e legato al mondo delle persone transessuali. La decisione di voler concludere con il compimento dei 30 anni, voluta dall'organizzatrice Regina Satariano, nasce dalla valutazione dei costumi che si sono positivamente evoluti e non necessitano più di un palcoscenico per raggiungere determinati obiettivi. Un concorso che ha legato la sua storia a quella di Torre del Lago. Gli inizi subirono veramente notevoli contrasti da parte di istituzioni civili e religiose, ma grazie alla caparbia volontà di Regina Satariano, la manifestazione si affermò come un fatto di costume inalienabile per il suo contesto spettacolare. Allora nel 92 non esisteva niente per poter parlare delle difficoltà che incontravamo, per cui trovo che sia anche importante fare un posto indietro e dire beh io sono arrivata. Quello che era il mio obiettivo l'ho raggiunto e i 30 anni credo che sia un bel regalo che ho fatto alla comunità transessuale, un regalo che ho fatto alla comunità tutta e penso anche alla comunità in genere senza specificare se sia transessuale, omosessuale e quant'altro.